Quest'anno non ho ancora deciso chi vincerà la Champions League, a differenza dell'anno scorso che avevo detto quest'anno è l'anno del City, non l'avevo mai messo, l'anno scorso era l'anno del City, quest'anno devo dirti che potrebbe essere l'anno di una squadra non considerata top per vincere, mi dà l'impressione che quest'anno a portare a casa la Champions League potrebbe essere una sorpresa. Dovrei avere l'elenco di tutte le squadre. Quindi nessuna di queste sei? No, queste sei hanno tutte sulla carta, anche il Barcellona mi sembra leggermente meglio. La Tredigo Madrid, l'Arsenal, il Porto, il Benfica, il Milan, il Milan e Napoli, no. Sorpresa potrebbe essere anche la stessa Inter perché sai una rondine... Inter! Inter, attenzione, non voleva dirlo Gambano ma la squadra indiziata era l'Inter. Potrebbe, perché una rondine non fa primavera, attenzione, quindi però siccome quest'anno credo che per una serie di motivazioni che adesso non sto qua a spiegare perché di notte mentre voi dormite io studio le cose. Si vede poi di giorno, comunque vai pure avanti. Devo dire che tra una settimana potrò essere chiaro... tra una settimana dirò chi vincerà la Champions League. Tra una settimana... Potrebbe essere l'Inter, attenzione. Non lo so, potrebbe essere anche l'Inter. Però dico che quest'anno secondo me sarà una sorpresa e tra una settimana lo dirò. In diretta qua a Telenova. Senza urlare. Senza urlare. Messaggi da casa, poi sentiamo Pioli. Sì, Pioli. Inzaghi, sull'avversaria, sull'area Sosedar, rivediamo la formazione. Abbiamo detto forse era un po' snobbata sta trasferta in Terrabasca inzaghi, non lo so. Vai Aurora. Sì, anche da casa a questo proposito scrivono. Considerando la griglia vista, a mio parere metterei il Bayern al primo posto, seguito dal Real e Manchester City. Inter, Napoli e Milan, destinati a uscire agli ottavi, se non prima. Non è sempre festa, bisogna essere realisti. Poi se la fortuna assiste alle italiane, mai dire mai, ce lo scrive Sabino. E poi, ancora, nella mia personale griglia metto l'Inter al secondo posto. Gambaro, hai ragione a prescindere. Grazie, concordo. L'Inter quest'anno vince la Champions, sicuramente, come no? Qui c'è del sarcasmo, chiaramente. Ma sì, lasciamoli ridere. E poi, ancora, l'Inter deve dimenticare le cose buone che ha fatto e procedere un passo alla volta, con la voglia di fare sempre meglio. Per quanto riguarda la vostra griglia, forse il Barcellona è superiore all'Inter. Napoli e Milan neanche tra le prime dieci, ci scrivono. Allora, per quello che ha costruito in questi due anni, anche a livello di Europa, inzaghi con la sua Inter, possiamo dire che poi i risultati che ha avuto, che si sono determinati quando l'Inter ha affrontato le corazzate d'Europa, li vediamo anche in grafica, non rendono merito a quello che è il reale valore dell'Inter. Perché comunque, considerando appunto gli incontri, gli incroci nei due anni, con il Bayern Monaco, con il Real Madrid, con il Liverpool, con il City, eccetera, su nove sfide, eccola qua, l'Inter ha vinto due volte, col Barcellona e con il Liverpool l'anno due anni fa, pareggiato una volta col Barcellona e poi ha perso sei volte. Quindi come se ci fosse ancora comunque questo gap, no? Con alcune squadre. Poi in realtà abbiamo visto questa finale con il City, che è fortissima, e l'Inter... No, ti dico, Michele, i dati sono quelli, sono evidenti, ok? Però ti posso dire che io non ho memoria, forse col Bayern Monaco, ma di una partita in cui una di queste squadre abbia decisamente surclassato l'Inter di Inzaghi. L'Inter di Inzaghi... A parte che cosa, a parte? A parte forse una partita col Bayern Monaco... Anche due forse, anche il ritorno, dai. Già meno, perché comunque serviva di meno per l'ultimo, ormai erano i giochi che erano fatti, quindi teniamola anche fuori un po' dai giochi. Tutte le altre partite... Che ti fa comodo. Ma no, ma perché comunque era una partita che non serviva a niente, fondamentalmente l'una e l'altra. Tutte le altre partite, l'Inter, le due sfide con il Liverpool, le sfide con il Real Madrid, le due con il Barcellona l'anno scorso, il City in finale, come ricordato. Io non ricordo momenti della partita in cui l'Inter abbia palesato un'inferiorità nei confronti di queste squadre, ma non solo l'anno scorso, ma anche l'anno prima. L'anno prima, appunto, quando ho giocato con il Liverpool, che era un Liverpool diverso rispetto a quello di adesso, non assolutamente sfigurato. La stessa cosa con il Real Madrid. Real Madrid all'andata giocò molto meglio l'Inter. E c'è di miracoli che era del Real. Certe squadre, secondo me, da qui a dicembre, queste sei partite, ci sono squadre tipo Real Madrid che stasera ha fatto fatica, tutto quello che vuoi, ma per definire poi chi può veramente vincere, lo devi vedere poi da febbraio un poi, nel senso che le squadre quelle forti, adesso può anche giocare male il Real Madrid o qualche altra squadra, o anche il Bayern. Poi da febbraio un poi, i giocatori abituati a determinati tipi di gare psicologiche, eccetera, eccetera, il valore esce fuori dopo. Hai ragione. Non è che io adesso vi posso dire in base... Oggi il Real ha giocato male, no, eliminato gli ottavi. La considerazione era, l'Inter ha, dopo questa finale col City, dove ha tenuto testa, ha comunque ancora bisogno di un timbro per essere una big d'Europa? Sì, beh, logico. Vedendo questi risultati oppure no? Bosio dice giustamente no, perché poi se la vede le prestazioni non ha mai... Non ha mai figurato. Ha qualcosa che l'Inter... Non è un timbro vero e proprio, ma voglio dire, la grande differenza tra l'Inter e le altre grandi big d'Europa è nel mercato, nel fatturato, nella capacità di spesa. Quindi è chiaro che l'Inter non compete con il Manchester City, con il Real Madrid, con il PSG, con queste squadre con cui hai difficoltà, chiaramente, a metterti in relazione. L'Inter, però, perdonami Enzo, il grande merito dell'Inter è anche questo, di potersi sedere al tavolo delle grandi senza, però, avere dietro una capacità di spesa simile alle quali grandi. L'Inter non ha il credito di essere considerata una big d'Europa, perché per essere in questa maniera deve aver fatto per anni e anni e anni sempre... 3-4 anni almeno in quarti, semifinale. Voglio dire, devi essere costante per anni, che poi l'Inter è sulla carta, visto che comunque, parliamoci chiaro, non è che in Europa ci sono tutti i fenomeni in giro, perché mi sembra che il calcio negli ultimi anni sia abbastanza livellato e non in alto, più in basso. Quindi l'Inter, credo che, tutto sommato, io credo che ai quarti possa arrivare. Allora, tra poco vi raccontiamo Real, Sociedà d'Inter, Braga, Napoli. Ricordiamo, Aurora, come scriveci, poi a rientro leggiamo anche qualche messaggio. Certo che sì, continuate a scriverci, su WhatsApp, SMS al 335 77 99 299. Qualche considerazione anche sull'avversaria dell'Inter e anche quella del Napoli, tra poco. Ma una squadra di media, alta classifica in Spagna, che però in casa si sa far valere, col proprio pubblico molto molto caldo. Avanti, Pirovano, via. Sì, c'è la squadra spagnola che adesso sta organizzandosi nella propria metà campo. Adesso c'è Varec Tetea che cerca il compagno, lo trova. Poi cambio di fronte Traoré. Attesissimo questa sera il giocatore Traoré. Poi c'è Braismendi, Zubilendi. Sfiore con il Braga. Riccardo Horta. Riccardo Horta su una penetrazione dalla destra del Braga, ma un buco abbastanza clamoroso da quel lato di Olivera. Riccardo Horta si gira su se stesso e conclude sul primo palo. Per fortuna la palla si spegne sul fondo. Anzi, no, deviata. Parata di Mera. Attenzione alla Real Sociedad. Il colpo di testa da parte di Bryce Mendez su cross proveniente dalla sinistra. La parata di Sommer. Pochi istanti e subito la Real Sociedad si è fatta viva dalle parti del portiere Nerazzurro. Ha parato tranquillamente il portiere. Qua De Vrij l'ha fatto saltare. Erano in tre in difesa dell'Inter in mezzo all'area e è riuscito quello della Real. A prendere il palo, attenzione ancora! Attenzione! Palo! E c'è il palo da parte della Real Sociedad. Arrembante nei primi due minuti di gioco. Si è fatta prendere alla sprovvista e alla formazione di Simone Inzaghi. Attenzione perché c'è ancora Real Sociedad in avanti che stavano avrando il pallone. Cioè, Palo, sembra nei primi quattro minuti del Mela. No, perché nei quattro minuti... Cioè, mi sembra che... Poso ride, scherza, però... Colpo di testa su cross da sinistra e parata, no? Subito dopo, praticamente, stesso tema. Sempre qua è Dunfris che sta un po' dormendo, ecco la maglia arancione, palla sul fondo. All'indietro, tiro qua quasi a botta sicura e palo clamoroso. Palo clamoroso, Real Sociedad due volte vicino al gol. La seconda in maniera veramente nettissima. Mi sembra Gambaro che non è ancora sceso in campo l'Inter, però. No, l'approccio dell'Inter fino adesso è stato disastroso nella maniera più assoluta fino adesso. Ma non perché sta giocando... Occhio! A Palo! Bastoni perde una pallata rapidosa. E c'è il gol del Mela. E' giusto così. Perché hanno fatto di tutto di più per prendere i gol. Bastoni ha fatto una roba. Hanno fatto di tutto di più per prendere i gol. Come si fa a perdere un pallone in area di rigore, di fronte all'area di rigore, Bastoni? Me lo deve spiegare tutta la vita. Mamma mia, che disastro. Adesso ve lo raccontiamo. Dopo le due occasioni, in due minuti, è arrivato il gol. C'è una protesta. C'è una protesta da parte dell'Inter. Forse c'è un check perché Bastoni ha perso sì la palla dopo averla ricevuta al limite dell'area da Sommer. Ma si sta controllando se c'è stato un intervento falloso. Ma non c'è. Non mi sembra che ci sia. A me non sembra. Vediamo da questa. Aspetta. Allora, da casa non vediamo. Eh, forse l'ha preso. Forse l'ha preso. Sommer riceve palla. L'accede a Bastoni. Bastoni se la porta avanti girandosi. Lo attaccano in due. Il secondo va a contrasto. Gli ruba il pallone. Parte il giocatore da solo davanti a Sommer. E lo fa secco. Regolarissimo. Palo. 1-0. E disastro Inter in questo momento. Un'inquadratura che è questa qui che sembra che lui proprio si perda la palla e cada. Nell'inquadratura precedente si vede però il giocatore della sessualità che contribuisce un po' al tacco. Gol regolarissimo. Però è regolare e ci sta. Il gol è buono. Restano i dubbi a Bosi e magari anche da casa. No, ma molto poco. Barbara? Ci sta, ci sta. Buono? Guarda, live lo stavo dicendo che mi sembrava che ci potesse essere perché ovviamente ho visto Bastoni crollare. però vedendolo da queste angolazioni no. Inizio shock. Inizio shock dell'Inter salta tutto lo stadio. Però si vedeva. Di San Sebastiano. A prescindere si vedeva proprio l'approcciata malissimo. No, ma approccio io intendo non perché sta giocando male. Risca di crollare lo stadio. Stanno saltando tutti i 60 mila spettatori. Mi ha dato l'impressione di essere proprio un mollo. Approccio perché contro i baschi, contro le squadre basche, tu la prima cosa che devi metterci è il carattere della cattiveria agonistica. La gara tua. Cosa che non c'è adesso. Insomma, poi ragioniamo. Vediamo se l'Inter intanto riesce un attimino a destarsi immediatamente. Intanto c'era stata un'occasione. Occasionissima per Rosimène che si è presentato solo a tu per tu col portiere Matteus, estremo difensore del Braga e praticamente gli ha tirato addosso. È stato bravo il portiere a chiudergli lo specchio ma Rosimène in effetti gli ha proprio tirato addosso. Quindi un'occasione per parte. C'è un fallo di mano, non si è schiato dall'arbitro. L'azione prosegue con questo inizio imprevedibile della Realce Autentate ma era imprevedibile anche l'approccio, la formazione nera azzurra che finora veramente è la fotocopia di tutte quelle che abbiamo visto adesso. Tu dici imprevedibile però il gol della Realce l'avete previsto tutti e due. Bravi. Ma non a terzo minuto in queste condizioni. Io e Enzo abbiamo cannato già. Quoi siete già fuori dal pronostico. Non abbiamo sbagliato noi. Ha sbagliato l'Inter e Inzaghi. Un attimo, un attimo, un attimo. Fallaccio di... Chi è? Barella. Barella è entrato in scivolata sulle gambe di un avversario. È arrivato il giallo? No, non è fallaccio. Dai questo. Era più arrivato, in scivolata ma poi il piede l'ha lasciato. No, non è un fallaccio. È un fallo da gioco, dai ragazzi. Poteva starci il giallo? No, se dal giallo qui deve finire la partita in sei giocatori. Comunque la difesa dell'Inter... Camboro era giallo o no? Secondo me... Ha fatto sei metri in scivolata e poi è andato sui piedi dell'avversario. Secondo me non era da giallo. No, non era da giallo. Secondo me no. Va bene. Comunque devi giocare così contro le squadre basche. Devi entrare molto deciso. Devi far capire che adesso sei ritornato a serenitare in partito. No, devi fargli capire che questa sera trovano un avversario duro. Cosa che i primi sei minuti non è stata. Assolutamente. Questo è l'approccio eh ragazzi. Non è giocare bene. Bastoni ha fatto una roba, Bastoni che... Vi ricordate Tardelli su Rivera? Ve lo ricordate? Sì, tre e due. Fisco di inizio. Quello era l'approccio. Allora, vediamo se c'è una reazione veicente. Ma davvero l'Inter sembra sotto shock dopo questo gol. È ancora la Real Sociedade col pallone tra i piedi. Pirovano. Sì, con la Real Sociedade che sta manovrando sulla sinistra. Poi fa correre palla all'indietro. Inter che cerca di alzare il pressing per riconquistare palle. Fare quello che presumibilmente Inzaghi gli avrà detto di fare che finora non si è visto. Però ci sono ancora 82 minuti di gioco. Noi siamo abituati a soffrire in Europa. Quindi un gol non ci fa assolutamente paura. Uno a zero comunque il risultato con un lungo rilancio che viene controllato tranquillamente da De Vrij che poi smista il pallone all'indietro per Sommer che glielo restituisce. Solo un istante Paolo. Sull'azione della palla rubata a Bastoni. C'è anche responsabilità di Sommer che lo va a servire con due avversari lì nella zona. Poteva magari rinviare il pallone Enzo? Beh, non è stata una palla sicuramente semplice per Bastoni che non lo ritengo essere un grande giocatore. Però poi Bastoni aveva tutto il tempo per disfarsi della palla. invece pensava di essere Beckenbauer, cosa che non è ed è successo quello che è successo. Però Sommer secondo me gli ha dato una palla che conoscendo i suoi compagni di squadra cioè se ho Beckenbauer gliela passo, se ho Bastoni non gliela passo. Tanto per intenderci. Un fallo da giallo e quello di Barella non era da giallo. Ha fatto la somma. Prima l'ha lasciato andare e stavolta lo ha punito. Barella era entrato in scivolata, proprio scivolata di 3-4 metri sulle caviglie del giocatore. Qua a Slani da un calcettino. Eh no, è più brutto questo. Questo è proprio da giallo, da dietro e da giallo. E anche per questi termini è stupido come fallo perché il pallone era già andato via. Se è al centrocampo, il giocatore spalla la porta, il pallone era già lontano. E noto un po' di nervosismo. Dimmi che senso ha a fare quell'intervento. Un po' di nervosismo eh. Sì, secondo me... Beh anche un po' in esperienza no per a Slani. Certo, già Monito nel ruolo dove gioca lui secondo me lo dovrà cambiare. E in Zaghi dovrà cambiare anche tipologia di gioco secondo me. Perfetto, avanti. C'è una rimessa in gioco per l'Inter, ovviamente l'unico playmaker è... No, potrebbe giocare Klasen. Come mai è l'unico playmaker che avete dopo Cialanoglu? No, c'è anche Klasen volendo. C'è anche Klasen. Klasen. Come ruolo. Poi dopo magari cambia idea. Poi magari c'è Michitaria, c'è Frattesi, c'è Marella. No, Michitaria non è un regista, non scherziamo dai. Perché se no allora anche tu fai regista cinematografico. Che ragione hai Paolo? Michitaria se lo metti lì non è capace per una partita di fare... Sì, ma Michitaria non è un regista, come non lo è Barella e Frattesi. Ho detto non che fare regista da qui alla fine della stagione. Se decide di cambiare qualcuno, Michitaria oggi per emergenza può fare quello. Ah, vabbè, certo. Se no chi lo fa? Appunto, sto dicendo. Avete detto che l'Inter sia rinforzato, io vi dico che invece nel complesso non sia rinforzata. E questo è anche uno dei problemi. Klasen può giocare tranquillamente da regista. È la prima volta che gioca da regista, vero? È una mezzala, Slani. Massimo, Klasen è un giocatore che, se guardi il numero delle partite che ha disputato, la maggior parte le ha giocate o come trequartista o come registra centrale. Poi ha giocato anche da mezzala, destra, sinistra. Ma lui come registra... Sì, dobbiamo valutare anche il tipo di giocatore che è. Però ce l'ha nelle sue corde. Prendiamo la cronaca adesso, vai. Cronaca che vede il possesso di palla sempre... No, adesso, la Real Sociedad che finora ha atteso ovviamente l'Inter nella propria metà campo per cercare poi di sfruttare gli spazi in contropiede. Occhio a questi palloni dati da Sommer vicini all'area di rigore. Ancora Sommer che da abbastanza. Costruzione da dietro, costruzione da dietro sempre. Passare da una maglia nera azzurra a una completamente, diciamo, arancione può creare anche delle problematiche, secondo me. È dominante, invece è stato ripreso con facilità. Allora, loro non sono granché, tecnicamente, se gli attacchi vanno in difficoltà, però sono una squadra tosta e ci mettono tanta, tanta parte atletica. Danfels deve svegliarsi, come dall'altra parte, Carlos Augusto deve darsi una svegliata. Bisogna dire ancora per quanto riusciranno a tenere dei ritmi alti. Zona d'attacco per l'Inter. Zona d'attacco per l'Inter dove c'è Dunfriss che da adefrai, poi Barella, guarda in mezzo all'area di rigore, non c'è nessuno, quantomeno il cross da lì sarebbe assolutamente innocuo. Adesso prova ad accerchiare e ad avvolgere. La Real Sociedad del cross è il colpo di testa di Arnautovic, alto. Ci ha provato Arnautovic, crossone di Dunfriss, dalla tre quarti, teso molto forte, dritto sul testone di Arnautovic che non è riuscito però a girare bene, saltato anche non troppo a tempo rispetto all'arrivo del cross e palla che è finita abbondantemente a lato. Savoia, che è successo? Ingenuità di Anguista che praticamente stava facendo involare. Verso la porta l'avversario diretto e poi è costretto al fallo fuori area, bene andata che è giallo, ma questo è un arancione. Ha fatto qualcosa di simile a Bastoni, nel senso che stava riscando di prendere palla. No, ma io non lo capisco questo ragazzo. Però ci ha messo il fisico, se non altro Anguista ha speso il fallo. No, ma ci ha messo il fisico però su una sua dormita. D'accordo, però sto dicendo rispetto a Bastoni per fare il parallelo e per far capire da casa. Bastoni ha perso palla e sono andati in porta. Qua Anguista l'ha quasi persa, però ci ha messo il fisico, ha fatto fallo e ha evitato che entrasse in area il giocatore del Braga. Diciamo che qui Anguista ha limitato i danni perché ha messo il fisico, però era una situazione diversa. Praticamente Bastoni si è andato ad incartare da solo perché ha perso completamente l'equilibrio sul tocco d'esterno. Allora, c'è una punizione molto pericolosa per il Braga. Pericolosissima del Braga, 19 minuti. Di o meno da questa posizione. Vertice sinistro. Sono pericolosi loro al suo calcio di punizione. Mamma mia! Fuori di pochissimo. E' sopra la barriera. Di pochissimo fuori. Sopra la barriera, ma fuori di poco. Occasione Braga si resta sullo 0-0. 1-0 invece rialzo Siedad a San Sebastian. L'Inter è sotto, non è ancora riuscita a rendersi pericolosa. E' anche un tiro nello specchio per l'Inter, mentre un palo oltre al gol è un'altra occasione per i baschi. Pirovano. Sì, però ha cercato ed è riuscito a riquilibrare la partita l'Inter. Adesso sta conquistando metri. C'è un fallo nei confronti di un giocatore dell'Inter che è Bastoni. E quindi c'è un calcio di punizione a favore della formazione nera-azzura con questi giocatori spagnoli che sono degli attori e continuano a perdere tempo, non appena possono rimangono a terra fingenti. Quale serie fanno il TV? Quale serie TV? Attenzione che se non è fuori gioco Arnautovic! Davanti al portiere! No! E se la fa parare! Fuori gioco, ma era fuori gioco netto. Era fuori gioco di un metro. Era fuori gioco netto. Secondo me l'Inter, secondo tempo, se mette in campo Turam la partita la ribalta, perché loro dietro ti lasciano degli spazi e con Arnautovic non li puoi sfruttare più di tanto. Real Sociedad, attenzione! Attenzione, la conclusione respinta, anzi deviata, da parte del giocatore della Real Sociedad che si chiama Tierney e quindi la parata di Sommer che adesso riavvia l'azione. Un po' presa sotto gamba sta partita, non mi sembra sul pezzo come al solito l'Inter. Quando cambi cinque giocatori comunque non è più la stessa cosa. Detto questo, forse non si aspettavano una squadra così aggressiva, però credo che farà si guardano le partite. Inzaghi lo sa che quando giocano in casa è così, ragazzi, si dà. Assolutamente, io poi contro le squadre basche ho giocato, ho preso tante di quelle botte che ancora ne pago le conseguenze. Lo so, detto questo, però secondo me l'Inter la partita la può rimettere in sesto, non con i punteggi che abbiamo detto noi nel secondo tempo, con Tuiram la musica cambierà. Cioè deve sostituire, rimettere i titolari? Sì, Arnautovic deve essere tolto per far posto a Tuiram sicuramente. Devi? Ha giocato in Australia in questi ultimi anni, domanda. A rugby è australiano? Ma non so, ragazzi, sta facendo di quelle cose davanti, è impresentabile questo Arnautovic. È arrivato al Bologna e anche Benino, mi sembra l'anno scorso. Ma mi sembra che Tiago Motto a un certo punto l'ha messo fuori squadra, io ricordo questo. Detto questo, in questo momento Arnautovic è impresentabile, con tutto rispetto. Eppure più avanti non lo so. Di Inzaghi, quanto ci ha messo però Inzaghi di suo nel togliere delle certezze oggi all'Inter? Cambiando 5 undicesimi del derby, proponendo Arnautovic, che francamente, l'abbiamo visto oggi, è quasi improponibile, qualche debuttante, Carlos Augusto, eccetera, eccetera. Quanta è la responsabilità di Inzaghi? Allora, intanto confermo quanto hai riportato, probabilmente è stato l'Inter peggiore, il tempo peggiore giocato dall'Inter di Inzaghi nelle coppe. Beh, per fare questi discorsi, effettivamente sul discorso dei cambi bisogna aspettare anche il secondo tempo, perché adesso quando farà i cambi, che comunque erano messi in preventivo, se dovesse raddrizzare la partita, alla fine potrebbe averla vinta ancora lui. Detto ciò, alla fine è vero che i nuovi non hanno brillato, ma anche i vecchi, perché se andiamo a vedere il gol che abbiamo subito è tutta colpa di Bastoni, Barella stasera non pervenuto, Lautaro non pervenuto, cioè i nuovi hanno fatto sicuramente fatica, però diciamo che le colonne portanti di questi inter, male male. Proviamo a capire, poi chiedo a tutti, cioè, è questa anche conseguenza un po' della sbornia da derby? Cioè, si arriva dopo quella vittoria clamorosa nella forma e quindi questa partita l'approcci in maniera un po' più morbida, ti senti troppo forte, c'è un po' di euforia eccessiva. Penso che l'Inter abbia dimostrato di aver raggiunto una certa maturità in questi discorsi, quindi sinceramente mi sembra veramente molto strano. Certo è che l'eccesso di elogi più avuti sull'Inter in queste, non solo nel derby, ma nelle quattro partite giocate in campionato, dove l'Inter è una schiaccia sassi, un rullo, quattro gol alla Fiorentina, cinque al Milan, eccetera, magari alla quinta partita ti fanno scendere in campo con quel bricciolo di umiltà in meno, ma giocando sfortunatamente in caso di una squadra basca che fa comunque del ritmo, della grinta, della garra, come si suol dire, gran parte delle sue giocate, allora a quel punto diventa poi difficile e rischia di andare incontro a delle figuracce come in questo primo tempo. Gamaro, il primo responsabile, già da casa l'ho visto qualche messaggio, grazie. Il primo responsabile di questo primo tempo è Inzaghi, va imputato a lui questo primo tempo dell'Inter, davvero sottotone a dir poco. Se vale per Pioli la disfatta del derby, è chiaro e evidente che qui non siamo di fronte ad una disfatta, però sicuramente le problematiche sono emerse e comunque sia in Coppa dei Campioni, anche se non sono avversari di primo livello, quando fai cinque cambi alla fine comunque ne risenti, che poi siano titolari, quasi titolari, pseudo titolari è un altro discorso. Esempio, io in questo primo tempo di sicuro Tioram l'avrei messo in campo, Arnautovic lo faccio giocare contro l'Empoli, non lo faccio giocare contro gli Spagnoli sinceramente ti dico. C'è il Sassuolo e la Salernitana nelle prossime tre partite, non trovi spazio per Arnautovic? Appunto, io lo faccio giocare in campionato e sicuramente potrebbe anche fare delle buone cose. Stasera lo metto in campo Tioram. Aslani sei costretto perché dopo Cialanoglu l'unico regista attualmente è lui, o quasi, perché non sappiamo neanche se è un regista. Cioè, è chiaro e evidente che quando fai cinque cambi puoi mettere insieme, anche in difesa, Pavard ed Evrai, comunque che hanno giocato poco, Pavard mi sembra che quest'anno non abbia mai giocato, poi non è neanche sto gran difensore a livello difensivo. Stasera la difesa dell'Inter ha fatto ridere il primo tempo. Comunque è stato il meno peggio dei tre. Eh, pensa agli altri come sono messi. Peggiore bastone, Evrai, secondo. Sì, sì, infatti ha fatto ridere la difesa dell'Inter. Il centrocampo, è chiaro, non ha avuto neanche possibilità di dare sfogo perché loro hanno giocato stretti e corti, molto aggressivi. Chiaro, non so se reggeranno 90 minuti così, appunto per quello ti dico che subito dal primo tempo metterai subito Tioram. Abbiamo rivisto il studio, l'errore di bastoni è veramente clamoroso perché ha la possibilità di recuperare palla, girarsi, avanzare, si allunga il pallone con quella sicumera da Beckenbauer di turno senza offesa e poi finisce per perderla. Barbara, so che è difficile parlare sempre dopo quel 5-1 del David, però chiedo anche a te comunque un commento a questo primo tempo comunque scioccante per quello che è il valore dell'Inter, anche la caratura che ha acquisito in Europa negli ultimi due anni. Ma infatti non mi aspettavo un Inter così, evidentemente forse come avevamo ipotizzato prima, forse 5 cambi possono risultare troppi, ho visto alcuni sottotono, Barella mi sembra stanco, non so. Barella male male. Forse stanco, comunque molto sottotono, beh la difesa sicuramente male e devo dire che la scelta di Aslani, allora Aslani è un potenziale buon giocatore, ottimo giocatore, il problema qual è? Che metterlo in una partita del genere che comunque per quanto sia la prima del girone è sempre Champions League, gli dai un po' quel peso, infatti quella munizione che prende al dodicesimo è frutto anche di inesperienza e non so quanto lo saprà. Aslani ha giocato, Barbara anche l'anno scorso è andato a giocare al Camp Nou, dove comunque sbagliò anche col gol nel finale, però ha fatto altre partite, certo non magari da titolare, non dal primo minuto, però anche in queste ultime gare l'aveva fatto entrare nella parte finale, nella fase finale degli incontri e l'ha sempre fatto giocare poi in quella posizione, quindi naturalmente non hai Ciananolu oggi, che tra l'altro tra parentesi si sente come l'assenza di Ciananolu, a quel punto dici naturalmente faccio giocare quello che dovrebbe essere sostituto attualmente, perché Klaassen sta entrando ma anche lui è un altro regista. Ma la posizione infatti è la sua, non è che sia snaturato da quel punto di vista, però sai l'anno scorso se non c'era Ciananoglu c'era Brozovic e comunque era una riserva tra virgolette No, scusa Barbara, scusa Barbara, la posizione ideale per Asdlani oggi non è questa qua, lui Asdlani è una mezzala oppure nel 4-3, 1-2 di Anderazzoli, molte volte ha giocato dietro i due attaccanti o faceva la mezzala, questa è una novità per lui e comunque sia, non è che tutti... Nell'Inter poco ma ha giocato in quella posizione, si allena da due anni in quella posizione. Sì sì ma, voglio dire, allenarsi non significa che poi sei capace a giocare, anche perché poi lo ripeto per l'ennesima volta, un conto è giocare nella posizione con la formazione tutta titolare e sei l'unico che entra. Ma qua è Mkhitaryan e Barella, non è che hai Gagliardini... Sì è vero, è vero che Mkhitaryan e Barella, però se Barella è in queste condizioni non è il giocatore normale, che non ti dà una minima mano, beh ragazzi abbiamo visto il primo tempo, poi magari nel secondo si trasformerà. Infatti secondo me c'è molto più da porre l'accento sulle colonne che stasera stanno completamente fallendo. Un po' di sindrome da pagamento post-derby? Questo non te lo so, l'abbiamo chiesto prima, potrebbe essere. Però è più Lautaro, Barella, Bastoni, sono questi i grandi assenti. Però Lautaro guarda che anche il derby secondo me non è che l'abbia giocato proprio al top delle sue posizioni. Ha fatto due assist. Certo Paolo, ma da Lautaro dai, ci aspettiamo altro, è vero, ha fatto due assist. Però quello che è sembrato francamente impresentabile è Arnautovic. Arnautovic veramente è sembrato fuori dal gioco, fuori da tutto. Infatti se Arnautovic, per chiudere il mio pensiero, se Arnautovic è la scelta che ha in zaghi quando non gioca nei titolari... Turam fuori oggi secondo me è la scelta più che la loro... Carlo Saugusto può passare, secondo me Turam fuori oggi nella prima di Champions per come sta Turam è la scelta più strana. Di Marco era uscito molto affaticato dal derby, quindi sta come anche per questo. Qui non si parla a caso, ok? Qui a caso non si parla. Assoluto. Ok, quando io dico che il reparto offensivo dell'Inter secondo me non si è rinforzato nella maniera più assoluta, perché io credo che se al posto di Arnautovic ci fosse Dzeko in campo... No, è questo che sto dicendo. Non dico che nel complesso l'Inter non si è rafforzata, ma... Nel complesso, però se scegli di far giocare Arnautovic con l'Empoli e stasera giochi in cultura... Appunto! Magari fa in primo tempo diverso. Certo, però il discorso è che il peso che avrebbe avuto Dzeko e Dzeko l'hai perso perché aspettavi Lukaku, poi sappiamo com'è andata. Quindi, nei tre attaccanti, l'anno scorso l'Inter è nettamente superiore. Poi, attenzione, Tioran sta facendo bene. Su questo per me non ci sono dubbi. No, ma Sanchez non lo considero. Non si aspettava questa decisione di Lukaku e lui sarebbe rimasto a me. No, infatti... Ne parliamo come tema per partire... Siamo d'accordo nel dire con gli interisti che se ci fosse Dzeko al posto di Arnautovic sarebbe un reparto un po' più completo. Siamo d'accordo? Lukaku, allora i numeri e poi qualche messaggio da casa prima delle pagelle. anche del Napoli. La realtà si dà di Inter, possesso balla, addirittura comunque è superiore all'Inter leggermente, però otto tiri a uno. Sì, sì. Tre a zero i tiri in porta. Passaggi riusciti più o meno siamo in equilibrio, però sono i tiri che danno la dimensione di quello che è stato... No, ma l'unica cosa positiva di questo primo tempo è che siamo ancora uno a zero. È l'unica cosa positiva che vedo in questi primi 45 minuti. E si può ancora raddrizzare la partita. Sì, grazie ai cambi. Vediamo da casa. E quando raddrizzi la partita grazie ai cambi, significa ahimè che hai sbagliato la formazione. È certo. Vediamo da casa, dai, poi le pagelle. E anche da casa sono abbastanza d'accordo con ciò che stiamo dicendo noi in studio. Cosa c'entra Arnautovic con la Champions League? Titolare, ma scherziamo? Allora vale tutto, signori. Ce lo scrive Enzo. E poi ancora... Non Gambaro. Però pesa anche Gambaro. Lo dico per chi non lo sa, Arnautovic è l'unico in campo che ha vinto la Champions. Sì, la vinta fuori dal campo. Ve lo dico così al momento. Ah, quindi è migliorato il reparto offensivo. La vinta senza giocare. Ti sto dicendo che è l'unico che ha vinto una Champions. Ma senza giocare. Allora ha giocato anche i mondiali. Con l'Austria. Cioè, ha giocato in campi internazionali. Questo è verissimo, però oggi sembra fuori condizione completamente. Siamo d'accordo, però dire che questo è un novellino che non ha mai visto una ribalta, europea, una ribalta internazionale. Allora vi dico, una Champions l'ha vinta e ha giocato i mondiali. Quindi sei contento di Arnautovic? Ok, dai. No, non è contesto. Allora, non mettere in bocca delle cose che non ho detto. Non ha detto questo, dai. Scusa Andrea, io do quattro per l'approccio. Manu non aveva dei dati molto... Io do quattro per l'approccio. Perché? Uno che si appresta a giocare una partita contro l'Atletic Bilbao o contro gli avversari, contro le Real Societad, tu sai già che la prima cosa che... che devi fare in assoluto, oltre che il colpo d'esterno e il colpo di tacco. Tu devi già sapere che per conquistarti una palla, anche se gli avversari sono scarsi, devi sudare sette camicie. L'Inter, l'approccio è stato negativo. Devi andare duro sui contrasti, ma da subito. Io aggiungo questa cosa, anche un po' il messaggio, secondo me, che dai comunque ai giocatori quando fai cinque cambi e vai alla prima di Champions, è che stai guardando il calendario e in questo momento ti interessa più il campionato. No, o che non consideri gli avversari così tanto forti da dover mettere gli undici titolari. Cioè, pensi di poterla vincere anche con cinque... No, no, chi gioca una partita... Scusa, con Real Madrid avrebbe fatto giocare questa squadra, domanda. No, no, no. Però sei in trasferta, è la prima di Champions e tu guardi al calendario, le prossime tre in una settimana sono di campionato con Empoli, Sassuola e Salernitana. Ma infatti... Ci sono cambi? No, no, io infatti l'ho ripetuto tre volte, non vorrei che avesse sottovalutato, non vorrei che avesse sottovalutato tre volte. Poi, intendiamoci, l'Inter ha il dovere, anche per quello che ha fatto lo scorso anno, di fare molto bene in Europa anche quest'anno, dopodiché, lo ricordiamo sempre, probabilmente certi messaggi anche della società dove si dice che quest'anno l'obiettivo straordinariamente importante è lo scudetto, probabilmente magari possono aver fatto bene. Poi verranno fuori che anche filtreranno che poi per le finanze dell'Inter è importante andare molto avanti in tempo, spero come gioca l'Inter. Ah, guarda, sinceramente è un rebus, è un rebus. Ma guarda che scene, ma guarda che scene, ma dove si buttano per terra? Ma in maniera veramente... Adesso ha munito un giocatore della Real Sociedad, penso. No, ha munito un giocatore dell'Inter e devo capire chi è stato. Scusami, il fallo non l'ha fatto su Lautaro Martinez. Merino è andato a terra. Merino è andato a terra. Poi c'è stato Zubi Menendi che è andato lì a... Ha munito Pavard perché ha dato una leggera spinta e lui si è rotolato per terra. Ah, ok. Ha munito Pavard. Diciamo che stasera i Zaghi... Adesso cos'è? 3-4-3, giusto? In teoria sì, 3-4-3 con due giocatori in mezzo al campo fuori ruolo. Detto questo... Non lo fa spesso il cambio di moduli in Zaghi, anche quando sta perdendo. Sì, però i moduli dovrebbero cambiare in un'altra maniera, l'ho già spiegato mille volte. Detto questo, risultato a parte, perché comunque è ancora buono. Siamo sul livello di pioli del derby qua. Sì, è partita. Siamo sul livello di pioli del derby qua, come errore di Zaghi. E non è un complimento. No, no, non è un complimento. Stasera sto dicendo. Sì, ma mi tengo questo, non farei cambio. No, no, no. No, no, no. Tengo quello. Sì, non fai cambio perché fino ad ora ti è andata bene. Dovevi essere sotto di tre gol, eh. I milanisti sono parzialmente rinfrancati da questa serata. Sì, dovevi essere sotto di tre gol. Sì, mi dispiace anche che ancora di più, come avevo detto nella mia analisi del derby, ha avuto gran parte colpe pioli nella disfatta del derby. Ma grandi colpe, ma grandi, grandi. Possiamo dire che se l'Inter fosse sotto di tre gol non ci sarebbe nulla da dire? Possiamo dirlo? Poteva stare 2-0, 3-0. 3-0 ci stava, no? 2-0 ci stava sicuro. Quindi, se ti va bene, anche perché poi la differenza reti magari... No, serve in Champions, è importante imitare i danni. Se una serata negativa per di solo 1-0 in trasferta... Però stasera, io sono ancora sperancioso si finisca di prendere 1-1. Non fate retta, Gambaro. Pavard è bravo, Pavard. Che c'entra Pavard, scusa? No, nel senso, è un giocatore che ci sta eccome in questi Inter, secondo me. Allora l'Inter di stasera, eh? Sì, ma è come Darmian come livello. Non è che... Beh, se il Darmian dell'anno scorso mi faccio la firma. Non hai preso Riccardo Ferri, Bergomi o Daniel Passarella. Non ce ne sono in giro e se ce ne sono... Certo. Calcio d'angolo, Reasso Senato, la può fare Barbaro l'Inter di rimettere a posto la partita? Vabbè... Dai, credici Barbaro anche te. Dai, dai, dai! Dai che ce la puoi fare. A Cerbi! E c'è a Cerbi anche, dai! Fate gli rispondere alla domanda. No, il tempo ce l'ha. Il tempo ce l'ha. Il tempo è dalla sua. Il tempo è denaro. Settantaseiesimo entra a Cerbi. De Vrai. De Vrai. E' uscito De Vrai e gli diamo... Vabbè, dopo vediamo cosa gli diamo. Da casa tra l'altro scrivono rigore clamoroso... Probabilmente però Stefan De Vrai ha dei problemi fisici. Da casa dicono rigore clamoroso per... Lamoroso per gomitata di De Vrai non dato. Ah, è la sprazzata che abbiamo raccontato in precedenza però. Non era proprio una gomitata. Non era una gomitata. E' stato... Era già con il braccio lì e quell'altro si è tuffato. Allora, attenzione perché adesso c'è ancora l'area... No! Sta per bastire doppio di pallo. Arriviamo, arriviamo, arriviamo. Palla, cross, basso, libera difesa dell'Inter. Lautaro Martini stravolto. Fallo, fallo. Fuori cominciare. Vai, vai! Vai, Dufris! Dentro, Dufris! Vai, Dufris! Che si fa a sinistra, Dufris? Dufris, a sinistra, fallo! Ma perché vai in mezzo? Vai a mangiare di rialzarsi! Senza senso. Di Marcone! Di Marco, che è un combattente. Non gliene dà uno di fallo. Altro istante, che è successo a Braga, a Savoia? A Zielischi, grande diagonale a volo sul palo lungo, su un invito veramente al bacio e però purtroppo la palla è uscita fuori. Non lontano da 2-0 il Napoli, ma Dufris è stabilmente a sinistra o era un caso? No, no, l'abbiamo visto spesso giocare a sinistra. In questo momento sono saltate tutte le posizioni. Perché fanno cambio anche con Carlos Augusto. Adesso c'è Carlos Augusto e adesso Dufris è troppo a destra. Ma spesso quando? Beh, ha visto in già due occasioni Dufris giocare sulla sinistra e Carlos Augusto dall'altra parte. In partezza, in area di rigore, in fase difensiva, poi si trova dall'altra parte e va a finire che... Si scagna anche un po' con Carlos Augusto. Non so se sia voluto o casuale. Sì, anche perché non stanno giocando con il 3-5-2 adesso, in questo momento. Adesso è una difesa a quattro, no? Però in questo momento... Come sta giocando, Gambo? Non ci ho capito più niente. Aiutami tu che hai giocato a pallone. Ci sono. Come sta giocando sta Inter adesso? Ma guarda, a me sembra che Di Marco sia centro-sinistra, al braccio di centro-sinistra, mi sembra. Sta facendo il difensore di sinistra. Sì, sì. E Carlos Augusto davanti a lui. Di Marco, a Cerbi, Pavard. Poi? Poi ci sono... Dufris a destra e Carlos Augusto a sinistra. Sì. Ok, ok. Quindi è questo. I due mediani e tre punte. Sì, tre punte con Sanchez che in teoria viene forse leggermente dietro agli altri due. Ok. Adesso attenzione perché c'è l'autoro Martinez. Bella palla! Bella palla! Mettile in mezzo! Mettile in mezzo che non sono avuto! Ecco l'è! Eccolo! Tu Roma! Tu Roma! Aspetta, 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 aspetta. Fuorigioco, 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 fuorigioco. Dova dargliela subito dove... Prova a dici aspettare. Fuorigioco, fuorigioco. Sì, però l'avete visto? Se la dava subito di prima, anziché fuori ancora tra i pali. Allora, un attimo solo. Non sei capito se... Buon attenzione perché... Fuorigioco forse di Carlos Augusto sulla partenza del lancio. Adesso... Fu l'autoro all'inizio, Carlos Augusto... Provate a sentire che cosa dico perché davvero abbiamo visto quest'azione veloce. Un attimo... Paolo, ascolta pure, ascolta pure. Poi cerchiamo di capire meglio perché... Fuorigioco. L'azione viaggia sulla sinistra. La palla è per Carlos... La palla è quella gialla però. Per Carlos Augusto che arriva sul fondo, mette dentro, c'è la rincorsa di Turam che a centro riceve il pallone e mette dentro. Il dubbio può essere se c'è fuorigioco qua di Carlos Augusto. Il ginocchio. Qua sul lancio. Oppure no. E questo è il problema. Il ginocchio di Carlos Augusto era il fuorigioco. Ho fatto vedere anche Lautaro. Perché Lautaro è il giocatore che in una prima fase di azione recupera il pallone e lo dà indietro e poi la palla viene ributtata in avanti. Comunque c'è un fuorigioco. Turam ha calciato, ha fatto qualcosa, ma già sapeva che era la ferma l'azione. Però avete visto... Turam che ha chiuso, scusa Enzo, l'azione, dicevamo sul passaggio. Ancora, aspetta! Passaggio! Turam e c'è il portiere. Attenzione! No, ha fermato... Punizione. Ha scelto bene il tempo, il portiere. Era bello. Però avete visto quello che abbiamo detto alla fine del primo tempo? Adesso, ovviamente, ogni pretesto è buono per morire e risuscitare. Con Turam in campo, comunque sia, ammetti che arriverà il gol meno, però vedi che è un'altra situazione. Arnautovic è uno che va solo in contro, non può andare lungo perché non ce la fa. Un'altra profondità dell'Inter con Turam. Se l'è giocata male... Se l'è giocata male... Se l'è giocata male con Arnautovic, obiettivamente. Non per dare la colpa al ragazzo ci mancherebbe, ma... Diciamo che Pioli ha fatto delle scelte tattiche folli, più che i giocatori che ha messo in campo. Qua in questo caso è proprio la formazione iniziale che non è stata... Siamo ovviamente al 5-1 che ha subito il Milan a livello proprio macroscopico, però questa partita pesa più di tre punti non fatti i derby. Non hai beccato tre gol perché sei stato fortunato, pagliamoci chiaro. Eh, Sommer ha fatto due belle parate. Sì, sì, poteva essere tranquillamente. Non scherziamo, qui la partita doveva essere 3-0 per loro, poi per carità, a volte c'è anche un po' di fortuna. Però c'è tempo, però c'è ancora tempo. Esatto, dieci minuti pieni, dai. Più recupero ci sarà, abbondante. Saranno almeno quattro minuti di recupero. L'Inter va meglio adesso. Altaro Martinez in avanti. Sì, sì. Spinge in avanti l'Inter ancora per Dunfriss che adesso è ancora sulla sinistra. Fare fallo. Cerca spazio. Poi il pallone forse... Sta recuperato. Dai ragazzi, adesso vedo la greta giusta, Paolino. Dai! Di Marco, ancora l'Inter, in possesso di palla. Cambia idea Barella, poi ancora l'indietro. Non si smarca mai nessuno, deve andare qualcuno là sulla destra. Ci provano adesso ancora i giocatori dell'Inter. Lautaro Martinez scivola, riesce però a rilanciare in avanti. Non dovete lasciar ripartire l'azione. Possiamo dire, Paolo, che sono saltati un po' gli schemi qua. Vanno tutti un po' avanti. Adesso loro siamo entrati nella fase del pullman. E basta. Adesso loro lo difendono. L'Inter non ha un modo lottatico in questo momento. No, no. Solo! E solo! Che gol! Che gol! Che gol! Che gol! Vagano! Grazie a te! Ma non ci credo. Ma non ci credo. Guarda, ha parecciato lo Sporting Braga. Fa segnare il puttino. Ma stramaledizione. Grandissimo l'autorismo. Ma stramaledizione ha parecciato lo Sporting Braga. Allora, il gol dell'Inter. È stato un gol di Carlo Saucco. Un attimo. Poi c'è stato un tentativo di Lautaro Martinez. Ancora la palla che è stata rinviata dalla difesa della Real Sociedad. Grazie. Quindi è 1-1. Azione rocambolesca in aria. La palla danza in aria. Poi esce fuori. C'è questo... Tiro sbagliato. Tiro sbagliatissimo. Non ricordo neanche di chi. La palla finisce. Aspetta ancora che devo vincere il gioco di 1-1. Attenzione. Ecco il crossbiette. Dicevo, tiro sbagliato. Finisce per diventare un assist. Penetra qua in aria da sotterra. Dove arriva Lautaro Martinez. Che è in spaccata. Da attaccante di razza. Tocca il primo pallone della sua partita. Praticamente. E fa il gol. Che piega. Che piega. La Real Sociedad. 1-1. Avevamo detto che ne sarà il momento giusto. Purtroppo contemporaneamente c'è un altro. 1-1. Sporting. Braga pareggiato. Ha segnato Bruma di testa. Solissimo in aria. Però non è possibile. Perché il Napoli era praticamente tutto schierato nella sua metà campo. Non ha praticamente saltato Bruma. Per buttare la palla di testa in porta alle spalle di Meretto. E andiamo a fare il 2. E Rolaccio Napoli per l'1-1. Mentre pareggiava l'Inter. Pareggiava anche il Braga. Oro. Oro questo gol di Lautaro. Lautaro mi verrebbe da dire. Davvero un gol clamoroso. Un gol clamoroso. Sarebbe da fare un CD. Un CD. Brutto fallo su Di Marco. Calcio di pulizione. Avanti ragazzi. 88 minuti e 13 secondi per andare a cercare la vittoria. Andiamo a vincere la quinta partita. Ce la possiamo fare. Dai. Di Marco. Vai Di Marco. Cambia. Bravo Di Ma. Il cross. Intercettato. Fallo laterale. E siamo ancora noi là davanti. Va detto. Vi faccio respirare un secondo. Va detto che era calato sensibilmente. La Real Sociedad negli ultimi 7-8 minuti. E l'Inter si era buttata tutta. Riversata tutta. Nella metà campo. Anche in maniera confusa. C'è stato un gol annullato giustamente per fuorigioco. C'è stato. C'è stato. C'è stato l'Inter. Era da un po' che era lì. Era lì. Ha pagato anche la stanchezza fisica. L'intercettato. Si è dato attenzione ancora a Inter. Verso Frattesi. Prova a vincerla. Prova a vincerla. Ce la facciamo a vincere. Carlos Augusto. Tiralo giù. Bravo Carlos Augusto. Bravo Carlos. Che riconquisti questo pallone. In avanti ancora. Sulla destra. Dove Dufris lotta accanitamente. Riesce a mantenere il possesso di palla. Poi scarica per la barella. Sanchez. Sanchez. Carlos. Calcio d'angolo per noi. Calcio d'angolo. Su. Avanti. Carlos Augusto. Che si è incunerato nell'area di rigore. Calcio incredibile. Bravo Frattesi. Felizia si è trasformata. Dal gol poi adesso continua ad attaccare. Questi qua sembrano. Di nercia. Dai che c'è il D-Day. Dai che c'è il D-Day. Dobbiamo far vedere chi siamo. Dai che c'è il D-Day. Un poliro. C'è il D-Day. Calcio d'angolo. Attenzione al contropiede. Non facciamoci. Prende la sprovvista contro Cross. Lunghissimo. Palla imprendibile per chiunque. Anche per Batman. Termina in. Fondo capo. Sei delusa Barbara? Ho visto un po' di amarezza. Te l'aspettavo. Te l'aspettavo. L'ho visto calare loro. E poi sai quando non raddoppi. Poi con l'Inter. Con i cambi di qualità. Che giustamente ha messo. Che dovevano essere quelli. Certo. Che assis frattesi sul gol. E l'aspettavo. C'ha battata clamorosa di frattesi. Che diventa assis. Dicevamo prima. Per Lautaro Martinez. L'ha stato frattesi a cercare il suo tiro da fuori. Sbilenco. E però è diventato un filtrante clamoroso. Comunque l'Inter. Perché è stato lì. Il campeon del mondo. L'Inter di questa sera è una partita veramente penosa. Dopo dopo dopo. A prescindere dal risultato può anche vincere. Non mi interessa. Sei di recupero. 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 Ci sta. Sanchez. Sanchez cerca di mandare avanti questo pallone. Poi lo perdono i giocatori dell'Inter. Ancora. Bravi. Guarda con che grinta sta giocando. Ho recuperato questo pallone. Dai. Su. Sulla tre quarti. Bravi ragazzi. Bravo Turam. Ancora. Riesce a dare all'indietro. Temporezza Sanchez. Poi ancora Turam. Col fisico. Difende il pallone. Poi lanciarsi da sore in area di rigore. E poi c'è un altro calcio d'angolo. Un altro calcio d'angolo. 90 minuti. 1 a 1. Grandioso Turam. Che giocatore Turam. Tra tutti i cambi certamente Arnautovic. Turam ha svoltato la partita per l'Inter. Quella reazione o comunque quel finale. Che c'è stato in positivo. Anche poco prima del gol. E dopo il gol dell'Inter. È più dovuto. E lo chiedo qua a Barbara Gamaro. Più alla stanchezza dell'avversaria. O al fatto che. Insomma. L'Inter abbia tirato fuori anche un po' di orgoglio. Di forza mentale. Che non ha avuto. Durante la vera è stata molle l'Inter. Loro sono calati tantissimo. Soprattutto il calo loro. Quando ti ho detto. Manc c'è il tempo per pareggiare. E anche forse per vincere. Perché era il 75esimo. E loro stavano veramente calando. Poi chiaro. Hanno preso un po' di fiducia. L'Inter quando riparte. Sulle ripartenze è forte. A quel punto aveva Turam. Ad aiutare la manovra offensiva. Credo che sia stata un po' una combinazione. Di più fattori. Che hanno fatto sì che l'Inter riuscisse a pareggiare. Allora oggi. Più meriti dell'Inter o più dei meriti fisici della Real Sociedad? Gamaro. Oggi in una partita ci sono più partite. Perché oggi con i cinque cambi. Cioè veramente. Ovviamente ci sono una, due, tre, quattro partite diverse. Poi dipende molto dagli avversari. Perché se sono avversari di qualità generale. È chiaro e evidente. Puoi fare anche i cambi. Magari e ne esci sconfitto. Qui loro. Sono una squadra nettamente inferiore all'Inter. Per 75 minuti. Hanno sputato sangue. Hanno dato molto di più di quello che potevano dare. Si erano secondo me. Sul campo. Sarebbero anche meritati di essere in vantaggio almeno di due. Forse anche di tre gol. Però la qualità è quella che è. E dopodiché non sono riusciti. Gli ultimi 10-15 minuti. L'Inter sono buttati tutti avanti. Forze fresche. Giocatori superiori. All'Inter è andata bene. Che hanno pareggiato. Comunque sia. Questo deve servire da lezione. Perché con Real Società ti va bene. Se lo fai con una squadra più forte. Probabilmente non basta. Credo che questa sia una partita giocata male. Dove tu ti sei conquistato un punto. Che però ti deve far pensare. Che se vuoi andare avanti in Champions League. Devi continuare a fare l'Inter. Quindi non devi sottovalutare nessuno. Prima di tutto. Non puoi permetterti di fare cinque cambi. Perché la Champions League non te lo può permettere. Che l'Inter stasera abbia sottovalutato. Non pensi che poteva. Può essere anche semplicemente il fatto che non ne avevano. Tanto quanto aveva dopo il derby. Cinque a uno. Questi sono entrati in campo. Talmente in maniera prorompente. L'approccio è stato totalmente sbagliato. Per approccio non significa giocare bene. Fare i passaggi giusti. Quando tu giochi a una squadra del genere. L'approccio deve essere duro. Deve essere forte. Loro devono capire. Che anche se sei in terra basca. Prima di conquistare un pallone. Lo devono sudare. Mi sono sembrati anche un po' molli. Gli effetti del derby si sono visti. Eh, un po' sì. L'Inter non è che si può permettere di entrare in campo leggera. No. Non solo può permettere. No. Perché non stiamo parlando del Brasile del 70. Dove c'erano i fenomeni. L'Inter è forte. Ma non è che ha dei fenomeni. Ci ricordiamo quella fase del campionato. Era il primo anno di Inzaghi. Dove l'Inter in alcuni momenti sembrava avere come la pancia piena. Come se avesse... Che poi voglio dire, non è che arrivavamo da successi dietro l'altro. Esatto. Però, insomma, in alcune partite è un passaggio a vuoto. Ma è anche mancanza di esperienza di Inzaghi qua, ragazzi. Nel senso che Inzaghi ha fatto due o tre volte la Champions, quello che è. Però, probabilmente, contro una squadra... Ha fatto una finale, eh, voglio dire. Ha fatto una finale, ma contro le squadre basche non ci ha mai giocato. Cioè, non è la stessa... Ma non è che è cascato da Marte stasera? Cioè, ha un curriculum, ha una storia, un calciatore... No, scusami, da come... Lo sappiamo tutti che in terra, no, basca... Eh no, lo sappiamo, ma se non c'hai... Guarda, Andrea, lo sappiamo tutti, ma se non ci hai mai giocato non lo sai. Quindi, evidentemente, forse, forse, credo che ci sia stata anche una sottovalutazione dal punto di vista proprio dell'approccio alla gara, secondo me. Allora, tra poco, le parole di Inzaghi, anche le pagelle. Poi commentiamo di Paolo Pirovano, il commento anche ai voti di Savoia al Napoli. Qualche messaggio prima di fermarci? Savoia, Aurora. Beh... Ci somigliamo. No, no, mi preoccupo. Mi preoccupo per te io, Michele. Pure io mi preoccupo per me, guarda. I gufi non vedevano l'ora di una sconfitta, ma vi è andata male. Comunque, un'altra inzagata. Turam, questo Turam, deve giocare sempre meglio di Lukaku. Beh, vabbè. Ma come... È però vicino, è essere meglio, eh. Vabbè, ma io non ho... Cioè... Allora, sto dicendo con... No, ma il problema è che se non gioca Turam, gioca Arnauto. Lascia stare Lukaku, è questo il problema. È un tema anche quello che dibatteremo nei prossimi giorni. Cioè, questa rosa di attacco dell'Inter è una rosa che, rispetto all'anno scorso, sembra al momento nettamente inferiore. Aurora. Ma come? I cugini non avevano una grande rosa, non avevano due per ogni ruolo intercambiabili, ma che vadano ad accendere il cielo stasera. Appallonate li hanno presi. Purtroppo non si gioca sempre con il Milan, ce lo scrive Emilio. Sono interista, ha ragione Gambaro, partita penosa, vittorio da crema. E poi ancora, magistrale analisi del signor Gambaro, come sempre, naturalmente gli elogi a Gambaro sono molti. Abbiamo fatto tutto per dare fiducia al Real, poi Bastone ha regalato il gol, dando ancora più entusiasmo alla squadra avversaria. Inter molto fortunato, Inzaghi ha sbagliato tutto, pazza Inter davvero, ce lo scrive Daniela e Felice. Peppe lo dò l'Inter e l'Inter si trasformò in pippe. Ci scrivono da casa. Comunque, io posso dire una cosa? Delle cose che abbiamo detto prima, io non credo, tra tutte le varie letture, che la formazione dei noti, che Inzaghi privilegi il campionato, perché è assolutamente certo che con questa rosa deve andare a vincere il campionato, ma che snobbi la Champions perché debba dare la priorità al campionato, io non credo proprio, men che meno in questa fase, anche perché l'Inter ha bisogno anche di liquidità e come ben sappiamo la Champions ti dà degli introiti consistenti, non credo che Inzaghi si possa permettere di dire puntiamo tutto sulla seconda stella e la Champions... Però Barbara, abbiamo visto il calendario, l'Inter ha tre partite ancora da giocare ogni tre giorni, ma ha tre partite di campionato con Empoli, Sassuola e Salernitana, quindi ampia possibilità di fare turnover sulle tre partite, e invece ha deciso di farlo oggi in maniera particolare. Però attenzione, l'Inter quest'anno secondo me lo scudetto lo deve vincere per forza e in Champions deve fare una buona figura. Adesso però, attenzione, noi diciamo che sicuramente l'approccio è stato sbagliato, la formazione è qualcosa, potrebbe essere modificata in meglio detto questo, però forse Inzaghi e l'Inter hanno capito che quest'anno potrebbe succedere quello che è successo l'anno scorso al Napoli, perché effettivamente il Napoli non è più quello dell'anno scorso. La Juventus non gioca le coppe, quello che vuoi, però voglio dire, ancora non dà garanzie. Il Milan è ancora in costruzione che si è ammigliorato tanto, cioè se loro pensano, quelli dell'Inter, che possono allungare in classifica e avere un distacco importante, ci può anche stare, perché sulla carta l'Inter lo può fare. Ok, sulla partita dell'Inter, Inzaghi cosa ha preso alla fine? Sei comunque, perché ha portato a casa il risultato, quindi sei, però ci sono diverse bozzature. No, non puoi dare... Quattro! Perdonami Paolo, sei... No, no, per carità, se Paolo ho deciso per lui è sei, va bene, per me Inzaghi stasera la sufficienza non ce l'ha minimamente perché il pareggio è arrivato per una serie di coincidenze abbastanza fortunati, diciamo così. L'approccio è stato totalmente negativo, una delle peggiori partite sicuramente giocata dalla squadra di Inzaghi, anche se il top rimane il derby perso, quello che è costato lo scudetto, detto questo, Inzaghi stasera a prescindere merita cinque, non è che se fa il punto gli dai sei, no, stasera Inzaghi, per me è un allenatore bravo, tante volte gli ho dato sette, stasera merita cinque, punto. Ok, Paolo, cosa ha detto a proposito Inzaghi dopo la partita? Inzaghi ha detto soddisfatto, sì, avevo previsto che dovevamo affrontare un avversario di valore, la prima ora non bene, poi abbiamo pareggiato e volevamo addirittura vincere. Cioè la prima ora non bene però è soddisfatto? Vabbè, la prima ora non bene però è soddisfatto, cioè è soddisfatto del risultato, è soddisfatto di aver raggiunto il pareggio. Abbiamo toccato con mano che la Real Societad è un'ottima squadra, come avevo detto alla vigilia. Le scelte, sempre facile parlare dopo, io avevo 17 giocatori, reduce dalle nazionali più quelli del derby, 17. L'ho detto ragazzi. Non è che solo i nuovi hanno demeritato, tutta la squadra non ha giocato all'altezza della loro possibilità. Contiamo che tra le nazionali e il derby dovevo fare delle valutazioni molto attente e allora Sedidolfi gli ha chiesto perché ha cambiato. Perché ho bisogno di tutti, avrei fatto anche più cambi, ha detto. Avrei fatto anche più cambi, farò sempre così ed era giusto fare così secondo me. Non rinnega le scelte, dice anche che non abbiamo giocato bene, abbiamo portato a casa il punto. Ero stato costretto a fare questi cambi.